Rieccolo! Ciao ragazzi, come andiamo? Tutto a posto? Io sto benissimo, sto proprio bene, i due di voi saranno ancora meglio tra un po', me lo auguro, insomma, perché sto registrando l'estrazione del giveaway che aprivo, no? Due settimane fa, voi adesso vedete il video qualche giorno dopo, però insomma, oggi che registro è esattamente due settimane dopo il video in cui aprivo questo giveaway per festeggiare con voi il mio traguardo, insomma, dei due anni, il mio compleanno, il mio compleanniversario youtubiano, ecco, mettiamolo così, dei due anni su YouTube ai miei mille iscritti. Quindi aprivo un giveaway, appunto, per festeggiare con voi, perché, insomma, se l'era per voi io non stavo qua e quindi, insomma, festeggiavo con voi e dicevo, ok, apro un giveaway. Questo giveaway, a parte che ha riscosso un successo impressionante, siete 77 che hanno partecipato, quindi un grande bocca al lupo a tutti quanti voi. L'estrazione è molto semplice, in realtà, estrago due numeri a questo giro, vi leggo, innanzitutto tutte le persone, e così le saluto, insomma, che hanno deciso di partecipare e di questo mi ha fatto un sacco di piacere, saluto anche tutte le persone che mi hanno solo lasciato un commento dicendo non partecipo, insomma, lascio la possibilità ad altri. Quindi grazie mille, grazie mille per tutto l'affetto, avete scritto dei commenti splendidi, e io vi ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio sempre di più di cuore, proprio grazie, non so più come dire, grazie, grazie. Quindi estrarò due numeri, e questi due numeri corrisponderanno ovviamente a due persone, al primo estratto andrà un libro in edizione rilegata della propria Wish, al secondo estratto invece un libro prossurato della propria Wish. I due vincitori poi mi contatteranno, insomma, avremo modo di sentirci per, appunto, affinché mi diano i loro libri, i loro titoli, insomma, della Wish, e io possa poi spedire il premio. Allora, vi leggo innanzitutto, così è un leggere, ringraziare tutti voi che avete partecipato, quindi in gara chi c'è? Ecco, varie W, Sara Magic, Betta e Bonni, Danielita92, Claude Metti, Lil, Melania Costantino, Nika, Nadia Z, Giungiolina, Porto Libresco, Stiletto Persiano, La Swamp, Ridvi Derica, Tante Mimì, Abraxas, Elisa Palmieri, Clarissa Questione di Libri, Senza Pensieri. Un po' questo, un po' quello, Ecri Libro, che tra l'altro è una ragazza che ha aperto da poco il canale e andata a seguire, è una persona fantastica. Sari Sa, Girola89, I consigli di Antonella, Sara Sparacio, qua dovrei dare baci e abbracci a tutti, lo faccio, in generale leggendovi vi sto salutando e abbracciando uno per uno. Sara Sparacio, Claudita Chan, Nettun84 col caffè, Sorellona, Linda Kinley, Duca d'Orlean, Gianluca Amatori, poi ci abbiamo, ci abbiamo, poi ci abbiamo, proprio brusco, Laura Venturelli, Artemente, Alessia Santana777, Il Mondo di Laura, Les Blueser Channel, Selva Giangelica, La Dislessica Lettrice, un'altra ragazza che ha aperto il canale da poco e andate a guardarla, Miriam Creazioni, Friendly Fortoz, Prokmanov, Cristina, Giuseppe Fina, Alessabeth Fireflies, Maura Carta, Francesca Spano, Laura Santoro, Luana Spinetti, Roberta, Antonella Orsi, Noal Writer, Alessandra Giannitelli, Excuse All The Blood, Michele De Lorenzo, poi abbiamo Ammurdes82, spero di averlo letto bene, Irene Aria, Tom Bombadil, Filippo Ivan, Shadowbox98, Monia Hobbit del canale Hobbit da Biblioteca, Carmine, Briciole di Tenerezza, Book Jules, Emilia Dillio, Daniele, Daniella, scusate, Pace, Sebastiano, Diario di Fede, Regan Giacobini, Danny del Magico Mondo delle Parole, Helen in Bookland, Billabio, Dani, Daniela, Pin Up dei Libri, Books, Make Me Happy, Sabrina Debbina. Grazie a voi ragazzi, grazie a tutti voi, un bacio, un abbraccio, grazie, grazie mille, estraggo, estraggo perché io non so come dire grazie, ve lo sto dicendo col giveaway, a due di voi eh ragazzi, qua c'è il mio fido, la mia fida Jack O'Lantern, no, che è qua sempre pronta, con 70 attestazioni, arriva lei, no, dice se devi estrarre, è che me arriva proprio pronta, pronta al suo destino, estraggo ragazzi, due numeri eh, senza guardare, no, vedete, no, non me l'avete mai detto, però vediamo se è uno eh, aspettate, no, sono due, e su due li ributto dentro, perché deve essere uno, perché sennò dice, è perché io, aspettate eh, umetto, 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 umetto e scelgo uno, eccolo qua, il 13, numero 13, poi andiamo a vedere chi è, numero 13 lo mettiamo qua, è il vincitore del primo premio, primo premio, quindi un libro rilegato. Invece il numero, eccolo qua, 37, che vola via, svolazza e, eccolo qua, è il numero, il secondo estratto. Allora, andiamo a vedere, numero 13 chi è? Numero 13 è la Swamp, so felicissimo, Nadia, una ragazza splendida, anche lei ha un canale qua su YouTube, andate a trovarla. Nadia, un abbraccione, grazie per tutto il supporto splendido che mi dai ogni volta, una ragazza di una dolcezza estrema, so felice che hai vinto te il primo premio e poi ci sentiamo, insomma, perché tu mi possa dare la tua wish. E il numero 37, invece, è, numero 37, Sere Channel, un'altra persona fantastica, so felicissimo pure per te, Sere, che hai vinto, che hai vinto questo, questo secondo premio, so, so contento, so contento, so contento, ma so curioso di vedere, no, le vostre wish in quale direzione si orienteranno e di spedirvi il vostro premio. Con, appunto, Nadia e Sere vi saluto, insomma, vi ringrazio, loro due sono un po', insomma, coloro le quali hanno vinto il premio, ma tramite loro ringrazio tutti voi, spero che sariate, sembro sempre l'alieno quando inizio a dire che mi inceppo, che mi fa pocchio, che siate felice per loro due e che, insomma, godiate anche voi, insomma, in modo traslato della loro vittoria. Ragazzi, grazie mille per essere stati qui e noi, laddove lo volete, insomma, mi trovate qua, sempre qua sto, un bacio e state bene.